xml encoding uguale utf, 8, gran par te del pubblico di uomini e donne lor vorrebbe vedere altro nover, ma app mentosi dovrà accontentare nuove dichiarazioni sull'EPR a questo punto Giorgio Manetti, l'ex cavaliere fiorentino che deve l'ASO polarità alla burrasco Sestori ad amore con Gemma Galgani, a Appe lasciato un'intervista al set ti manale mio e, anche se appare molt o difficile ipotizzare un suoritor non il parterre maschile dal moment o che sarebbe ancora legato a una sua chi ha fiamma, una donna di nomeca Ina, non c'è dubbio che il suo icon ti faranno discutere.anche per che le parole che il Gabbiano usa per mi regge ma sulle pagine dell'AR sta diretta da Andrea David Chat ti n'isono tutto fuori che l'Usinger così, Giorgio con le ipro si trattiene punto e immaginiam alla dama torinese, che di lui è orata persa, non farà piace uscere questo suo giudizio dopo la foto, Gemma legio parte dell'entourage, del da mento esordisce Giorgio e ti sumio dopo dieci anni le AUG di trovare ciò che cerca, ma io mi sei un po' stancato dopo tutti quei anni punto su di lei è stato detto a tutti non saprei cos'altro aggiungere appare evidente, dunque, Kale 63 e ne non abbia proprio una bella O della sua ex continua ad op 8, ben diverso, invece, Eilk commento su Anna tedesco, la dama che non è mai andata d'accordo con Gemma e che anche nel recente passato è sta t'accosta tal gabbiano, Anna Ted esco, c'è sempre stata una bell'ami ci sia e ci sarà sempre punto è rientrata e domni e le auguro buona fort e sui pettegolezzi circa un Giorgio commenta o not che la punzecchiano, insinuand coinvolgimento tra me e lei punto non sono le illusioni velenose continua dopo le foto, è a propos o di nemiche di Gemma, Giorgio è autore del libro Il Gabbiano e le principesse, ha parlato anche di Tina Cipollari punto l'opinionist ad io ed il 63enne fiorentino ha voluto fare un grande in bocca al lupo Oz ha puto della sua dieta e faccio il tif o per lei, può farcela ci vediamo Og ni tanto al ristorante del Suofitan o per lei, può fare un grande in bocca al lupo o per lei, può fare un grande in bocca al lupo a a an a una a 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 Grazie a tutti.